Grande dunque era l'attesa per la sfida del Morgagni tra Forlì e Real Forte Querceta. Il pubblico bianco-rosso era ansioso di misurare lo stato di salute dei Galletti contro quella squadra che a lungo era stata considerata la sorpresa più lunga, più lieta del campionato di Serie D. Un primo tempo che vive di pochi spunti di cronaca, in questo caso al dodicesimo la punizione di Scalini, il colpo di testa out è di Tascini. E poi al ventesimo ancora da pallina attiva il Forlì che prova la manovra sulla sinistra, cross la sponda in questo caso di Caprioni per una esecuzione però debole, quella di Ronchi. Andiamo però al quarantesimo ed è grande l'opportunità invece per il Real Forte Querceta che improvvisamente si presenta davanti a Ravaioli con Begollo, salva tutto il portiere del Forlì, davvero un intervento provvidenziale perché nella ripresa finalmente la partita conosce qualche momento di maggior vivacità, in particolare già al terzo minuto il contrasto che non sembra però fortissimo ma c'è quello di Tognarelli su Rapai. Calcio di rigore per il direttore di gara, l'esecuzione però è sbagliata da parte di Tascini la risposta di Raspa che mantiene dunque le due squadre in perfetta parità. Allora andiamo all'ottavo, il Forlì ci prova ancora con Rapai, c'è il tocco finale da parte di Raspa che evita che la palla finisca nello specchio. Si va dalla bandierina in quel caso, si va sulla destra adesso per il Forlì con questa bella azione manovrata, un Forlì che ci prova con Variale e Tascini tocca il pallone, scarico all'indietro per Rapai in posizione da trequartista, scarico sulla sinistra per Eric Amedeo Ballardini, il cross basso che diventa perfetto per Caprioni. Vantaggio dunque per il Forlì contro il Real Forte Querceta, splendida l'azione quasi ragbistica in onore degli azzurri che hanno battuto l'Australia, il Forlì giunge in meta, si porta avanti può cercare addirittura di raddoppiare le marcature con lo scatenato Caprioni che imposta l'azione la mantiene viva dopo una rovesciata, scarica all'indietro l'assist per Farnetti che spreca però con il piattone sul fondo. Real Forte Querceta che non ci sta, altra azione in questo caso degli ospiti, il cross dell'ex verde e sul secondo palo Pegollo, il capitano che pareggia i conti con l'intervento vincente in una delle rare disattenzioni difensive del Forlì pareggio dunque per il Real Forte Querceta al 29esimo immediato, il nuovo vantaggio del Forlì con il neo entrato Manara che apre per Tascini, cross è perfetta l'esecuzione alla Giroud lo possiamo dire da parte di Manara che finalizza l'azione e poi si toglie la maglia proprio come aveva fatto Giroud contro il Siena ricevendo anche un successivo cartellino giallo e poi successivamente lo possiamo dire infortunandosi gli facciamo già un in bocca al lupo per un contrasto di gioco che lo ha visto abbandonare il terreno di gioco ma intanto arriva il triplice fischio il successo del Forlì 2 a 1 contro la Real Forte Querceta Grazie 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 Grazie